Nuovi investimenti nel Pinerolese per diffondere la banda larga e la rete di fibra ottica grazie ai fondi residui del patto territoriale del Pinerolese. Nella sede del comune di Pinerolo è stato firmato il protocollo d'intesa tra provincia di Torino, CSI Piemonte e sindaci di Pinerolo, Luserna e Roletto che consentirà, nell'arco di un anno, di portare in alcune zone industriali di questi comuni un efficiente collegamento in fibra ottica. Gli operatori locali di TLC potranno trasformare in offerta commerciale per gli utenti finali la connettività presente nei vari siti. Il progetto generale del patto territoriale del Pinerolese prevede la creazione di due dorsali principali di sei sottodorsali per un'estensione complessiva di fibra ottica di 438 km. Con i fondi residui del patto, circa 145.000 euro, è possibile ora portarlo a termine. Quest'ultima fase consiste in un forte rafforzamento della connettività nell'area poiché, oltre a completare il collegamento delle aree industriali, si mettono in rete alcuni servizi pubblici come lo sportello unico per le imprese e l'intero complesso scolastico di Pinerolo. Oggi stiamo parlando di circa 145.000 euro per un completamento di intervento di banda larga che avrà nella sua collocazione in un sito industriale del Pinerolese. Però l'orgoglio sta in questi dieci anni di patria territoriale di essere coloro che hanno garantito un'efficacia e efficienza di utilizzo di risorse pubbliche. Noi solo sulla banda larga, quindi l'infrastrutturazione telematica, abbiamo messo sul territorio del Canavese, del Pinerolese circa 6 milioni di euro. Quindi questo è un piccolo pezzo di infrastrutturazione. Abbiamo dato circa 16 milioni di euro perché ha imprese direttamente per agevolare le attività industriali a fronte di investimenti da parte delle imprese di 108 milioni. Abbiamo fatto ulteriori investimenti per 6 milioni di infrastrutture, utilizzando 3 milioni. Quindi è l'idea di una provincia che a fronte di fondi nazionali, infatti i territoriali sono fondi di carattere nazionale, in questi anni non ha perso un euro per poter mettere nelle condizioni il territorio della provincia di essere competitivo. Ci auspichiamo che la ora metropolitana sappia far sì che anche le risorse che saranno nella prossima progettazione 2014-2020 siano a beneficio di tutto il territorio e non solo di parti importanti come la città di Torino. Sindaco Buttiero, il beneficio per Pinarolo e la sua area di questo accordo di oggi? Direi che si racconta da solo, è un beneficio importante perché chiaramente darà una nuova linfa alle attività economiche sul territorio, stiamo parlando di collegare l'area industriale e anche altre parti del territorio, quindi l'ambito scolastico. Poi ci saranno nuovi progetti in corso, quindi credo, obiettivo importante, risultato raggiunto grazie alla provincia che si è ancora sostenuti, sono dei residui, quindi vuol dire che i residui si sono rimasti, in qualche modo vengono nuovamente rinvestiti. Siamo partiti dal 2002, siamo da 12 anni dopo e quindi credo che questo sia nuovamente un altro momento importante per, in questo caso, il territorio pinerolese. Grazie a tutti.